Quella ragazzi, ciao a tutti le nicchia raga, bentornati qui su Farming Simulator 22 nella mappa Nordestand Anche oggi ragazzi siamo qui in compagnia di MidiCaccio Ciao ragazzoli belli, buon weekend a voi ragazzi, buona domenica Buona domenica sera, quasi finita diciamo così, dai Allora ragazzi, dunque oggi ho beccato una mod uscita da pochissimo nel moddub Una mod che ci torna utile in questa mappa Visto che in questa mappa abbiamo anche i maiali Praticamente ho trovato un macchinario piccolo ed economico Adesso lo vado già a piazzare Che ci permette di produrre per l'appunto cibo per suini Purtroppo però è una mod che non è disponibile su console Non so il perché Forse perché hanno messo sto marchio agromet che caspita ne so Non lo so Fatto sta che praticamente Questo macchinario Che poi devo capire da che parte si raccoglie Perché lo voglio mettere qui Però poi se lo metto che Cioè il problema è che io lo voglio mettere Ma poi da dove si raccoglie di nuovo Perché poi non vorrei che lo metto attaccato al recinto E non posso raccogliere quindi Forse lo metto al centro che è meglio Lo metto più o meno qui al centro Ok Allora dei maiali Vado a vedere L'ho messo lì Così vediamo un attimino Questa produzione Questa produzione Diciamo di cibo per suini Fammi togliere St'arrobaccia qua Così lo vediamo da vicino Ah devo mettere di nuovo euro Perché cambiando mappa ogni volta C'è sta Maiali Sì Allora eccolo qua ragazzi Lo faccio vedere Anzi tolgo pure questo Così lo vediamo meglio Che è sto coso Eeeh Un macchinario per fare cibo per suini Certo non capisco da che parte si carica poi il cibo Ecco perché ho lasciato un mucchio di spazio aperto Io penso da sopra No da sopra si scarica dentro Da sotto dovrebbe scaricare Si carica E da sotto si scarica Sì Credo eh Non è che ne sono sicuro però Comunque Questo è Io penso che sto coso è Quello che si usa con la cariola No 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 Io l'ho già visto Che ci scaricano da sopra Va bene Allora Detto ciò ragazzi Andiamo a vedere come funziona Giustamente Una fabbrica Allora Diciamo che Si può fare il cibo per suini Con Mais Frumento Orzo Oppure Usando l'avena Avena Orzo Frumento Oppure Frumento Orzo Colza Oppure Semi di soia Frumento Insomma Frumento E orzo Ci vuole sempre Oppure addirittura Solo con frumento E orzo Però ovviamente Ne chiedo una quantità Maggiore Chiaramente Non è realistico Perché Perché giustamente In questo caso Anzi forse In tutti i casi Mancano Mancano le barbabietole Non ci stanno E non ci stanno Le patate Quindi Non è Non è realistico Però Comunque Che ne sapevo Lo volevo provare Non è realistico Vabbè E quindi Insomma Si può fare Perché poi alla fine Il cibo per suini È un mix Che contiene tutto Il necessario Ovviamente Ma mi sa che ho messo Sterline Invece che euro E difatti Ok Ma ho messo euro Ok Ok quindi Un po' dipende Quello che abbiamo Da parte Però Già che basta Frumento orzo Che ce l'ho Frumento orzo Potrei anche mettere Vediamo Diceva Avena Quella no Per i cavalli Mi serve E niente Mi sa che famo Frumento orzo Visto che tutti e due Ce li ho in abbondanza Intanto Mi dicaccio Non lo so Sta Sta facendo Un po' di fitness No no Stavo vedendo Forse le patate Veramente Non servono Per fare il cibo Per suini Con questo macchinario No Però nella realtà Sono richiesto E motivo ci sarà Accidenti Mi sono dimenticato Ancora una volta Stavolta si Mi sono dimenticato Raga Mi sono dimenticato Che devo mettere Aspetta Che È caldo ragazzi Eh no Mi sono dimenticato Che devo mettere La mod quella Per Per il diesel Me la so scordata La prossima volta Giuro che lo ricordo io Raga E me ne sono dimenticato Ero convinto Che C'avevo tutto Accidenti Che poi voglio dire Accidenti Di base Potevano mettere Una botte Che pigliava Che poi non lo so Ma può essere Magari Ma può essere Che Può essere Che la Bara Chiamata Insomma Magari Quella Magari La bara Può Devo controllare Se ce l'ho Vabbè Chiamata Bara Perché assomiglia A una bara Raga È da una vita Che la chiamo Bara Ma io mi ricordo Che dalla bara Puoi caricare Si scaricare Però dentro Le produzioni È il discorso Che mi pare Che una volta Non era fattibile Devo vedere Comunque si Allora Poi Questo Lo mando Lì Piano Piano Ci faccio Fatti Giri Produzioni Fabbriche Sta bene Allora Mi pare Che posso Caricare Da qua Quindi cosa Sta mettendo Il mais No Perché ce l'ho Vabbè Mi sto confondendo Dall'alma Scusami Madonna Non c'è niente Lo so Moment Orza Vena Zero Colza Zero Madonna Ma abbiamo Iniziato Ha iniziato Sta mappa Le patate Ce le ho Però Ma lui Non le vuole Allora Terreno Number Due Cioè Fabbrica Nel terreno Due Vabbè Insomma Quella Aspetta Sì Pia la larga Allora Allora E devo Vedere Se c'ho La Bara Chiamata Aspetta Ma quella Si trova Su varie Oggetti Posseduti Io da varie Non c'ho Proprio Niente Varie Varie Oggetti Noleggiati Passa un po' De tempo Bisogna solo Controllare Se gli animali Hanno tutto Il necessario Beh Vabbè Per i suini Ce ne stiamo occupando Ci voleva un pochino Le pecore ci stanno Pecore 2 ci stanno Galline Ma galline Dovevo pigliere il cibo fra Non c'è frumento Non c'è orzo Non c'è sorgo Che stai dici È frumento Oh Se io vado nel silo Mi dà zero qua L'ho appena preso Scusa E perché scusami Se vado nel prezziario Non mi dà niente Ah Non lo so Ma io sto portando Frumento Proprio adesso Ma sto trattore qua Ah si A proposito Il 14500 Un attimino Lo parcheggio Allora Vediamo se si può scaricare Mo Mannaggia Speriamo che non devo scaricare Dall'alto Dei cieli Ah ok Si può fare anche da qui Oddio E te pareva Sto cavolo De coso Ecco là E mo Che non ti fido Io mi dissocio Da ciò che sto vedendo Che non ti fido Zio Nicca capace Sto 500 Ce ne va qui dentro Si va bene Domani a mattino Va Si con sta capacità Si 1000 Ho immaginato Che sarebbe stato Un po' piccolino Ok Io La cosa che mi sto chiedendo Ragazzi Ma da dove Si Scarica adesso Che cosa Ancora aspetta Un modo Dico io Come faccio Per la capacità Piccola che ha In modo Dico io Come favo Il problema E No Lo risolvo Il problema Senti Vai in negozio Piglia la botte Caricala di carburante Caricala Beh si Insomma Compra un Si Compra un Boh Che ne so 3-4000 litri Di carburante C'hai C'hai già là Un trattore O devo prenderlo Dalla farm No no E' già lì Appena è arrivato Il trattore Ah che cacchio Non l'ho visto il palo E' già tutta lì E' già tutta lì Faccio Compa Sto andando a caricare La benzina Bravo Si no Diesel Nafta 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 Allora Amore Ragazzi Visto la Visto la capacità Irrisoria Di quello Usiamo il mio Silos Per distribuire Che è meglio M di caccia Saltò in aria Si ma noi Aspetta Ci abbiamo anche Quella per fare Dried Weat Allora Priorità Disabilitato Per ora qua Non mi interessa Accessori Frumento Farina Per ora Disattiva Disattiva Per ora Non ne voglio sapere Niente qua Semi Non sto a fare Manco quelli Per mio Quanta roba Che tengo Allora Frumento Attiva Orzo Attiva Per ora Facciamo un po' Di cibo Da qui Che è meglio Quindi Metto in Distribuzione Cambia Modalità Distribuzione Distribuzione E così La risolviamo E invece Devo attivare Anche il cibo Per suini Perché 2000 È molto poco Diciamo Che è così Cibo per suini Dove diamine Che manca L'ho dimenticato Di Ah no qua Attiva Ok Cibo per suini Lo vado a conservare Allora Che poi è anche Complicato Scaricarci In quel Coso Quindi Se metto In distribuzione E in automatico Ci va A finire Dentro È meglio Perché è anche Complicato Scaricarci In quel macchinario Allora Vediamo un po' Mi sa Ma sto cosa Porta proprio poco Compà 3000 litri Porta Vabbè Meglio di niente Dai Ma devi venire Poi te Qua Dove ci stanno I suini Eh sì Una parola Allora Da Qua Ah ok Perfetto Giro a sinistra A destra E sempre a dritto Va bene Ok Ok Questo sa Da parcheggià Questo sa Parcheggia E questo Per ora Magari me lo metto qua Allora Vediamo un po' Mi pare che il punto Di raccolta È qua Orzo Oh Perfetto Vai 15.000 euro Di benzina Diesel Nafta Nafta Diesel Quello che è 15.000 euro Vai Mo devi Portarlo lì Dove abbiamo i suini Sì Vai Sono già arrivante Ok Allora A chi è che devo dare La balla Ai suini Forse La balla di paglia Gli devo dare Però se gli do La balla di paglia Ce devo anche mettere Quello lì Che fa la Insomma Sta cacchina Dove la fanno Poi Ma la paia Non ne ho Ma l'ho finita Ma non ce n'è Accidente Ah Sarà che con la paia Ci ho fatto tutto Eh Sarà che con la paia Ci ho fatto Il coso Non mi viene I vesti I cosi Impaglia La mia mod Insomma Sarà che ho fatto Quello Allora Ma gli ali Non è qui Dove andare Alla prossima No Qua No Ma che è Ma non so dove te trovi Perché io già sono arrivato Ah ok All'altro incrocio Ok Allora Vediamo un po' Di scaricarci Questi qua Raga Dopodichè Dovrebbe farmi Un po' Di cibo Per suini Ma ne varrà la pena Non ho fatto ancora Un calcolo Se ne varrà la pena Beh Vabbè Fra 500 di frumento Quanto viene pagato Verrà pagato poco Ah no Spera Perché mo Me lo devo fare Questo calcolino Io Allora Sì Lo Dunque Noi Abbiamo messo Dentro 2000 Mille litri Mille Mille Quindi Aspetta Intanto lo attivo Comunque Cioè A prescindere Lo attiviamo E Comincerà a fare qualcosa Allora Dove Caspita È qua Frumento Perfetto Allora Mettiamo in Per ora Generare Poi distribuzione Un'altra volta Quindi Mille Mille Se andiamo a guardare I prezzi Allora Frumento Vale La bellezza Di 1170 Orzo Mille Ecc Insomma Ho messo dentro Ho messo dentro 2300 Euro Di Di prodotto 2300 Ok Ho messo 2300 Adesso Andiamo a vedere Quanto valgono Due pallet Allora Pallet Di cibo Per suini In teoria 900 Mi sa Ogni mille litri Costava Sacco 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 Mi sa 900 Mille Costava Ogni mille litri Cioè Praticamente Siamo sempre Col solito Discorso Che chi fa Le mod Non capisco Come le fa Cioè 1800 Euro Spendo Per avere 2000 Di cibo Per suini No Un momento Eppure peggio Eppure peggio 200 guadagni No Ma che guadagno Allora Allora ragazzi Ricapitoliamo Noi abbiamo messo Mille frumento Mille orzo Mille frumento Sono 1200 euro Mille orzo Sono 1100 Quindi Per produrre Ho speso 2003 Ma non vado A produrre 2000 litri Di cibo Per suini Perché Perché c'è scritto Chiaramente Che mi dà Di meno Mi dà Se io vado Qui a vedere Da 7 Mi dà 5 E allora Perde pure 500 Euro Nel senso Che Nel senso Che Praticamente Sto cibo Per suini Invece di Comprarlo A 1800 Dal negozio Lo sto pagando Lo sto pagando Insomma Caro Cioè Praticamente È più conveniente Comprare il cibo Che produrselo Ma perché Le mod Le fanno così Cioè Per me Una mod L'utilità Di una mod Come questa È che Vado a risparmiare In confronto Al negozio Perché sennò Che senso ha Quindi Qui Per risolvere La questione Dovrei Sempre Perché io Me le modifico Le mod Alla fine Mettere 500 litri Di frumento E 500 litri Di orzo No O quasi Fare Che ne so Sì è che Una rottura di balla Andrà a modificare Tutte le mod Però Ogni volta Però insomma Ragazzi Se fanno due calcoli È evidente Che mi costa di meno Comprarlo Il cibo Più che produrlo Quindi la mod È carina Ma è tanto Per estetica Che è bella Perché poi Alla fine Però Alla prova Dei fatti Non è conveniente Mi costa di meno Comprarlo Sto cibo Che produrlo Aspetta Comprà Il carburante Va qui Ah no Questo macchinario Qua Questo è il macchinario Dove vuole il carburante Avvia scaricamento Dice Da lì sotto Piglia Come cavolo Sì sì Aspetta In teoria Il carburante Scarico Ma scarica Nei 100 litri Aspetta 100 litri Giusto per capire Do va Ok Fammi vedere Dove è andato a finire Sto carburante Allora Siccatore No Dove caspita È andato a finire Scusami Perché effettivamente Qua ti dà Il carburante Vedi Fra il simbolo Ma non è che Il carburante In realtà Sta andando dentro Il trattore mio No Diesel 71 litri Qua lo dice Ah sì sì Ora E non appariva Prima 171 Oh cavolo Ah lì Ok raga Almeno di positivo C'è che non devo mettere Nessuna mod Per il diesel Io pensavo che questa botta Non andava bene Invece per fortuna È andata bene Quindi va benissimo Solo che pure qui Compatti devi fare il calcolo Che tu su 3000 litri Hai speso 15.000 euro Sinceramente Io mi sono rotto Le balle di ste mod Perché Non lo so Io scarico ste mod Ma poi alla fine Non sono mai convenienti Già la Giants I maiali stessi Non lo so come li ha fatti Perché Per mantenerli Costa un occhio della testa E valgono poco Poi pure i mod Invece di aiutarti Un po' A contenere i costi Vanno pure a fare Che Che non conviene Io non lo so Veramente Che poi Che poi Oltretutto È controproducente Creare una mod In questo modo Perché tipo Io ho creato la mod Quella che dalla paia Ci fa i cappelli Insomma Ci fa gli accessori In paia E quella mod È scaricata di brutto Perché la gente Dice Caspita Non costa molto Quella fabbrica Ci guadagno bene A produrre Gli accessori di paia E la mod Fa tanti torrote Ma se io faccio una mod Perché tu alla fine usi solo paia Eh ma se io faccio una mod Che però poi dici Ma non è conveniente Non la usano più le persone Quindi quella mod Non viene neanche scaricata No perché ragazzi Perché ad esempio Qui in questo caso Noi abbiamo speso 15.000 euro di benzina 3.000 litri No vabbè Ma lascia stare questa fabbrica Io non sto a parlare adesso di questa Io ti sto a parlare di quello dei maiali Quello lì sinceramente Il calcolo Non me lo so ancora Fatto O forse l'avevo fatto Vabbè in realtà Comunque con papilla Vuole pochissimo carburante Ne prende 20 litri Ogni mille Quindi E allora è buono Così Così è buono È accettabile Ti dico Non è male Però sai che ti dico Che io qui ci metto di nuovo La priorità E me ne sto a fregare Di brutto E per forza Perché qui Per ora ragazzi Non è conveniente Priorità niente Sinceramente fare sto cibo Pessuini Così Magari qualcuno adesso nei commenti Giustamente Ah per carità Non è che dico che Uno può dire quello che vuole Quindi magari Mi direte Non è che guarda Però è giusto così Perché Non deve essere sempre conveniente Però nella realtà Se io scopro Che mi è più conveniente Comprare il cibo Già pronto Me lo vado a comprare Già pronto Perché A questo punto preferisco Anche perché c'è Un'altra cosa Poi oltretutto Da tenere in mente Raga Cioè Che abbiamo detto 2300 euro Se frumento e orzo Lo vado a vendere Così com'è Ma se io ci faccio La farina Ci vado a guadagnare Pure il doppio Da quel frumento e orzo Perché la farina Vale di più Il pane vale di più Quindi automaticamente È abbastanza evidente Che produrre Cibo Pessuini Non conviene Forse conviene 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 se Conviene se Cibo Pessuini Me ne dà Quattro volte di più In confronto Ad adesso Se in confronto Ora Mi dava 20 Dici Caspita 20 Buono Dai È tantissimo Allora magari Conviene Vabbè comunque Insomma Ne abbiamo Penso Al momento Parlato abbastanza Avete sicuramente Capito Quindi Nei commenti Raga Ditemi la vostra Secondo voi Che dovrei fare Che cosa dovrei fare Io vi dico Sinceramente Che Così com'è Non lo utilizzerò Perché Non lo trovo Utile Non lo trovo Cioè Caspita Non è che Dici so scemo Non è conveniente Non è conveniente Piuttosto Prendi i soldi E vado a comprare Il cibo Già pronto Ovviamente Non ha senso È come se Nella realtà È come se Nella realtà Voglio dire Tutti i soldi Esatto Nella realtà Mica vado a buttare I soldi Per piacere Vabbè Pazienza Comunque la mod Almeno l'ho provata Giustamente Andava provata Vi ricordo che In descrizione C'è un link Per Con la lista Delle mod Che abbiamo usato Che usiamo In questa serie In descrizione C'è anche la lista Delle mod Che ho creato Io per farming In descrizione C'è il link Del canale Di MidiCatch E molto altro Raga Molto molto altro C'è in descrizione Allora Dunque Che dirvi Questo Ecco Ecco vedi Ma Ma piuttosto Questo orzo qui Lo vado subito A dare alle galline Che tu mi hai detto Eh ma dov'è il cibo Per le galline Ce l'ho Io lo vado a dare adesso Ok compa E insomma Raga Che vedevo di Boh Non lo so Difatti io Su questo farming Sono rimasto Molto deluso Da Da come funziona Tutta la questione Dei prezzi Io Veramente Eh Io di fatti Quando la gente Mi dice Nicchia Ma te che cosa vuoi Nel prossimo farming Un'economia Più equilibrata Non dico Ovviamente Realistica Perché Realistica Poi Finisce che ci vuole Troppo tempo A fare i soldi Quello è ovvio Che no Non proprio Realistica Dipende Dipende No che c'entra Perché poi Se comincia a guadagnare poco Cioè Quello che voglio io È un'economia equilibrata Dove le galline Che sono facili Da allevare Non mi vanno a fare Una barca De soldi I suini Che sono più difficili Da mantenere Invece Mi aspetto Che quando li vado A vendere Ci guadagno Bene Io questo voglio Voglio più equilibrio Dopodiché So contento Allora Ho dato da mangiare Anche queste Mi pare che erano Oh che mo Non mi ricordo Che cos'erano Anatre Forse Vabbè Anatre Anatre Questo voglio Economia Più equilibrata Poi vabbè Chiaramente I modder Ognuno fa come vuole Quindi lì Si può fare poco Ovviamente Dovai Ho parcheggiato La barra In farm No Non tu Il camion Se l'annava Per i cavoli sua Il camion Ho pensato Che stavo Pingando male Ma io invece Non stavo Pingando male Semplicemente Il camion Se l'annava Per i cavoli sua Mi senti no? Si si Certo fratello Ti sento Sai com'è Una volta Crasci te Una volta Magari Crascio io Però se Continuo a crescere Tu per me Vabbè Lasciamo perdere Che è meglio Ma A proposito Come va Come va La connessione Tutto bene A casa A te Tutto a posto Eh Diciamo così Perché ragazzi Dovete sapere Che ieri Dovevamo registrare Ieri Io e me di caccio Dovevamo registrare Nella alma Allora So andato So andato Diciamo Da lui Nel discord Gli faccio Mi dica Come va Oggi La connessione Tutto bene Nick Due minuti dopo E morto Non si è fatto più sentire Cisua E gli è morta La connessione Poi mi scrive Oh Nick Non mi dire più niente Non mi parlare più Mi è esploso tutto Ragazzi Tutto internet La luce È tornata dopo quattro ore Ragazzi Dopo quattro ore Cioè io non ho parole Eh vabbè Che ti devo dire Va bene Va bene I drive Di cibo Poi Vabbè ancora Ce n'è il cibo Per le vacche Va E che diametri Ma fa Ma famo passare Una giornata Che cacchio Una giornata E devi vendere Mi raccomando C'è da vendere un botto A gennaio Oh come si fa A far passare la giornata Vai a dormire Eh no forse devo fare il login No l'ho già fatto Forse sta casa è finta Ma che cacchio Beh Vado in questa casa va Là non mi fa dormire Ah qua si Vai Ok ma a gennaio Abbiamo tante vendite Pane Eh vabbè Il tempo è quello che è Ah va bene Ok Quello purtroppo Il tempo vola Una mezz'oretta di video Come sempre Ragazzi Poi se è troppo lungo Mi dite Nick Ce l'hai troppo lungo Eh il video Quindi Allora Dove sei andato a dormire A casa principale Sì Oh ma però Poi che poi Il cibo ne fa pure poco Ah non è che Se sta ammassando Oh no Ah forse l'ha fatto No no Forse che un pallet L'ha fatto Visita Vediamo E dove sta Bello Complimenti Effettivamente c'è qualcosa Che non cosa Effettivamente è strano Scusami Scusa qua dice Cibo per suini 593 litri Doveva farne Un po' di più Doveva Ok 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 che ne fa Un po' di meno Ma non ce ne doveva essere Un pochino di più Quindi questo Ti fa capire proprio Che sta mod È fatta proprio Senza pensiero Senza pensiero No il senso è È fatta come dire Che deve rendere poco Pochissimo È fatta Capito ma Non la Non la prendo Sta mod Se tu mi dai Una resa così minima Cioè mi fai perdere Solo tanti soldi È vero È vero Perché forse all'inizio Ho calcolato male È vero Eppure Eppure Pure peggio È vero Perché ho messo Dentro duemila Però quel duemila Mille mille Viene consumato Per fare comunque Quel cinque Appunto Ci vogliono Ecco vedi Ci vogliono Quattordici Diciamo Tra fumente e orzo Sono quattordici Quattordici Per fare cinque Di cibo per suini Quindi Praticamente Io spendo Io spendo Due mila Il doppio No aspetta Io spendo Due mila Trecento Euro Per produrre Sì e no Ottocento Settecento Di cibo Per suini Cioè Spendo Due mila Tre Per fare Ottocento Euro Di cibo Per suini Che potrei Cioè L'ho capito Cioè io Invece di spendere Novecento Euro In negozio Ne spendo Due mila Tre Per produrre Quel novecento Ma non conviene Ma non conviene Cioè io Per farne anche Novecento Euro Di cibo per suini Ho speso Due mila Euro Ma non conviene Cioè raga Voglio dire Se io compro A fine anno Ma è rosso Se io vado a comprare Cibo per suini Mille litri Novecento Euro E io qua Con due mila Trecento Euro Di orzo E frumento Ci ho fatto Neanche Ce farò Sì e no Settecento Amoni Andiamo Gioco veloce Forza Voglio vedere Quanto ne esce In totale E poi è così lento Che manco Si vabbè Con sta lentezza Domani Si Manco si aggiorna Neanche si aggiorna Perché 630 litri Ah mo si aggiorna Si Cioè insomma Non è mai la pelle Raga è fatta male Raga È fatta Veramente Veramente male Per me è fatta male Con i calcoli No che la mod è brutta Esteticamente Con i calcoli Con i calcoli Cioè la mod è bella È carino Questo coso qui Cioè Tipo Tipo su duemila Dovrebbe dare Quattromila No per me Per me E lì va bene Per me deve dare Sempre più di quello Che mi costa comprare Appunto Su duemila e quattrocento euro Lui deve dare Quattromila litri Di cibo per su vino Su duemila e quattrocento euro Tra orzo e frumento Mi ha fatto Si e no Seicentocinquanta euro Di cibo Che potrei comprare In negozio Cioè No Cioè praticamente Il cibo lo pago Tre volte di più In confronto al negozio Con sto macchinino qua No per Non se ne parla La prima è l'ultima volta Che lo uso Se è così Se me lo modifico Magari Allora ne vale la pena Ma così com'è Non se ne parla Va bene ragazzi Noi andiamo a concludere Ovviamente Ancora una volta Vi ripeto Vi ripeto Ancora una volta Nei commenti Ovviamente Diteci la vostra Per carità Non è che Non è che sto a dire Che tutto quello Che dico io È giusto Voglio sentire anche Il vostro parere Ovviamente Va bene Detto ciò Vi ricordo Che in descrizione Ci trovate Il canale Di Miticaccio In descrizione Un link Per comprare Questi e tanti altri Giochi scontati I miei social La lista delle mod La lista delle mod Che ho creato io E molto altro Ci si becca ragazzi Ciao alla prossima Ciao bellissimi Buona domenica Forza Juve Stasera Ciao ragazzi